Lavora, ori, alla riscossa! Vuole essere semplicemente un contributo ad una discussione molto importante quale quella che si sta svolgendo stasera e che ritengo fortuna prosegua anche dopo che il mio saluto potrebbe lasciare assolutamente rientrare a Milano. Abbiamo fatto tante altre rinioni, iniziative di questo tipo in tante parti del nostro Paese. Sono parte della campagna per la sanità pubblica gratuita e di qualità che il nostro partito ha ritenuto necessario mettere in campo a fronte di quello che accade, del perché accade e molto a riguardo è stato detto. Questa campagna è parte di un programma più generale per il cambiamento sociale e politico dell'Italia che il nostro partito ha approntato, proporrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, segnatamente in concomitanza con l'appio della campagna elettorale. Questo programma sarà presentato a Roma il giorno 24, prossimo 21, in un'iniziativa pubblica alla quale ovviamente siete tutte e tutti invitati. Questa campagna affronta uno dei temi centrali. La sanità è di fatto il bene più prezioso che abbiamo e che attiene appunto alla salute. E abbiamo detto perché è stato messo in discussione, viene messo in discussione quel sistema sanitario nazionale che ha portato a garantire una risposta ai bisogni per tanta parte della popolazione che con i sistemi precedenti di fatto erano sprovvisti. Viene messo in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, i suoi principi di universalità, di solidarietà e di equità, perché come qualcuno sottolineava prima, è passata l'idea che anche la sanità deve essere considerata una merce, deve essere subordinata alle condizioni economiche dei singoli. In altri termini hai i soldi, ti curi, non hai i soldi, muori, fai i conti con quello che ne consegue. Quando prima noi sottolineavamo che 11 milioni di persone oggi rinunciano a curarsi per l'impossibilità a corrispondere ai costi, grandi o piccoli, della sanità, ci dobbiamo forre un problema che riguarda l'oggi, ma riguarda soprattutto il domani. Perché se queste persone rinunciano a curarsi, perché costrette, pongono una serie di ipoteca sul loro futuro, non c'è dubbio, ma pongono anche una serie di ipoteca sulla società tutta, perché un domani tutta la società dovrà fare i conti con le ricadute sociali di quella rinuncia, delle condizioni che quella rinuncia forzata determinerà. Perché rinunciano? Come abbiamo detto prima, per ragioni prettamente economiche. Rinunciano alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione. Noi non possiamo permettere questo. Quindi la campagna che facciamo per una sanità pubblica gratuita di qualità ha questo obiettivo, rimettere al centro il diritto di tutti, un diritto costituzionalmente sottolineato, a curarsi, il diritto alla salute. Per questa ragione diciamo che la prima questione che va affrontata è quella dell'abolizione di ipoteca sanitaria. Per questo abbiamo messo in capo una petizione popolare. Ma come avrete visto, accompagniamo questa campagna anche di altre denunce, di altre proposte relativamente alla sanità. Si parlava prima, ad esempio, delle liste d'attesa. Noi non possiamo più tollerare le liste d'attesa che vengono presentate in tanta parte del nostro Paese. Perché le liste d'attesa si possono e si devono superare. E abbiamo fatto, come avrete visto, nei volantini che abbiamo distribuito, se non avete avuto modo di invito a farlo, noi facciamo delle proposte precise che sono quelle, ad esempio, di investire sulla sanità pubblica, che sono quelle di dire basta all'attività libero professionale all'interno delle strutture sanitarie, che sono quelle, in sostanza, di dare corpo ad una serie di misure che devono e possono superare le liste d'attesa, che sono, ad esempio, quelle di un uso diverso della strumentazione diagnostica, di laboratorio che ha a disposizione. Ma questo, sappiamo, passa anche e soprattutto attraverso una diversa politica per quanto riguarda le dotazioni organiche. Oggi, nella sanità, manca tanto del personale che servirebbe, medici, infermieri, tecnici, ausiliari e così via. Noi abbiamo bisogno, quindi, di intervenire su questa questione delle liste d'attesa, così come abbiamo bisogno, anche qui vi invito a leggere il volantino che abbiamo predisposto al riguardo, di intervenire in maniera decisa relativamente ai pronto soccorso. Perché anche i pronto soccorso, come le liste d'attesa, sono la cartina di Tornasole del non funzionamento del servizio sanitario nazionale in tanti contesti. E anche la questione del proprio soccorso deve trovare una risposta, anche qui ancora una volta, investendo innanzitutto nel personale, in una diversa relazione tra la struttura ospedaliera e le strutture territoriali, quelle che ci sono e quelle che vanno messe in campo laddove non ci sono. Perché dobbiamo ritornare a ragionare di un sistema sanitario che si rifà alle ragioni che hanno determinato il servizio sanitario nazionale e che quindi prova davvero a dare una risposta in questa direzione. Ci diranno che non ci sono i soldi. Non è vero. Non solo per l'entità delle questioni delle quali stiamo discutendo. 113 miliardi per il Fondo Sanitario Nazionale significa una cosa molto semplice. Il Fondo Sanitario Nazionale non è atteduato, non è sufficiente. Il sistema sanitario è sottofinanziato. È un sottofinanziamento strutturale che viene da lontano. I ticket producono il livello di, che abbiamo sognato prima, all'incirca un miliardo di euro. Si può tranquillamente trovare una risposta a quello. Potrei farvi tanti esempi e non voglio come sempre rifarvi al tasso di evasione fiscale in questo Paese che è semplicemente vergognoso. Ma penso ad esempio, perché va detta così, agli 11 miliardi che in tre giorni il governo, il Parlamento, sono riusciti a trovare per il sistema bancario. Non possiamo accettare l'idea che si trovano 11 miliardi. Per quella realtà è non un miliardo per abolire i ticket. Potrei parlarvi degli 80 milioni al giorno che spendiamo per le spese militari. Anche su questo dobbiamo dire con forza che c'è un'alternativa necessaria e possibile. Potremmo fare un lunghissimo elenco di risorse che vanno orientate verso la sanità pubblica e non invece, come oggi accade, in altre direzioni. Quindi è una questione di scelta politica. E noi non a caso poniamo l'accento sulla necessità di fare questa scelta politica e non altre. Ovviamente noi, come è stato sottolineato, non siamo al governo, non siamo in Parlamento. Abbiamo l'obiettivo con le prossime elezioni politiche di riportare il Partito Comunista e i comunisti in Parlamento perché di questo si avverte il bisogno. Lo risolviamo ogni giorno quando ci rendiamo conto che le politiche che in quel contesto vengono portate avanti non sono certo quelle che noi sottolineiamo. Ma noi dobbiamo, possiamo, attraverso questa raccolta di firme, attraverso le manifestazioni, i presidi che abbiamo promosso e che dovremmo continuare a promuovere davanti alle prefetture, davanti alle assessorati regionali e alla sanità, davanti alle diverse realtà nelle quali i cittadini quotidianamente si misurano con il problema. Pensiamo ai centri di prenotazione, agli ospedali, ai pronti soccorsi che finanno pienamente. Noi dobbiamo denunciare questa situazione e batterci perché questa situazione trovi una risposta adeguata. Guardate che è assolutamente possibile avere un sistema sanitario pubblico, gratuito, di qualità. È solo una volontà politica. E aveva ragione che prima sottolineava che tutto quello che sta accadendo non è casuale. Il figlio di quella cultura liberista che si è affermata nel tempo e che ha segnato e segna pesantemente le politiche europee, come da questa parte del mondo, quelli governi che si sono succeduti alla guida del nostro paese. Che si chiamano Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, oggi Gendiloni, la sostanza non cambia. Nessuno di quei governi nei fatti mette in discussione quella cultura liberista, mette in campo politiche che rispondono ai problemi con i quali oggi gran parte della popolazione, sempre più povera, insicura sola a fronte di quelle scelte, è costretta a fare i conti. Noi diciamo che bisogna cambiare registro. Per questa ragione, lo vedrete, il 24, venendo a quella iniziativa di presentazione di quel programma che ho richiamato in apertura, noi crediamo che oggi più che mai bisogna rispolverare non uno slogan, ma un pensiero forte, di fondo. Abbiamo bisogno di più Stato, cioè di più collettività e di meno mercato. Ci hanno ubriacato in questi 25 anni, non casualmente dallo scioglimento del PC, se ci pensate, sulla centralità del mercato. Noi non possiamo essere d'accordo perché ricondurre al mercato le varie condizioni dei cittadini, a partire da quella della sanità, significa semplicemente quello che ho provato a dire prima. I pochi avranno una risposta, la maggior parte quella risposta non. Per questa ragione, io credo, che l'essere comunista innanzitutto significhi questo, pattersi contro i privilegi di pochi, per i diritti di tutti. E sulla sanità io credo che dobbiamo e possiamo fare un grosso lavoro. Perché tocchiamo concretamente un problema che la gente sente, perché appunto fa riferimento alla cosa più importante che ha, cioè la salute. E quindi noi dobbiamo fare di tutto, perché come la Costituzione ti sottolinea, anche il diritto alla sicurezza è un diritto garantito a tutti e non soltanto a qualcuno. Grazie. 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 Grazie.